quarto giorno aiutaci o madre regina nostra incita madre di dio ti preghiamo fa che i nostri cuori siano ricolmi di grazia e risplendano di sapienza rendili forti con la tua forza e ricchi di virtù su di noi effondi il dono della misericordia perché otteniamo il perdono dei nostri peccati aiutaci a vivere così da meritare la gloria e la beatitudine del cielo questo ci concede a gesù cristo tuo figlio che ti ha esaltata al di sopra degli angeli ti ha incoronata regina e ti ha fatto assidere in eterno sul fulgido trono a lui onore e gloria nei secoli amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.